ecco calmerino che si sta vestendo ragazzi finita con questi telefoni che fra poco dobbiamo iniziare lo spettacolo siamo sulla nave a Taormina vedi che spettacolo e fra poco comincieremo la notte esibizione hai capito o non hai capito? mica c'è magari la televisione o tutto può ma dobbiamo suonare giù vero? prima giù nel salone giù minchia questa è una nave gloscia vediamo quanto è lunga tutto divino oh che bello allora questo piccolo video ci dedichiamo a qualcuno io ho tanti amici ma uno in particolare glielo dedichiamo a Cesare Corneli anche perché dopo non posso farlo quando mi esibisco e poi non penso che loro vogliono i americani a casa sono tutti americani tutti gente rossa ti saluto vai vai auf wiedersehen bianche bianche a pomeriggio